Eccoci qua cari amici, indovinate dove siamo, dove siamo cari amici? Non lo potete mai immaginare, e invece sì! Cosa stai facendo Maria oggi? Stai tagliando il pane! Mamma mia Maria, cosa hai combinato oggi? Ma che hai fatto? Abbiamo fatto il pane! Hai fatto il pane oggi? No, adesso li tagliamo, li facciamo tutti a fettine, facciamo le bruschette! Ma questi sono tutti i pane che hai fatto stamattina di notte, era ancora buio quando l'hai... E ora alle 5, alle 5! Mamma mia Maria, hai fatto questi quattro pagnottoni di pane e adesso che fai? Li tagli? Sì! Li fai tutti a fettine? Si tagli e poi si fanno tutti a fettine! Brava Maria, con la tua sega elettrica! Vedo che c'hai una... Ma mi metto a vedere la cosa! Ah Maria, ma che dici? Che dici Maria? Tu hai visto troppi cinema americani! Eh sì sì! E mi piacciono pure i cinema americani! E chi è il tuo attore preferito? Il tuo attore preferito chi è? Svazner! Svazner! Eh Rocky non ti piace roba boa! Sì sì sì! Anche Rocky! Rambo! Quello italiano però! Quello italiano Rambo! Invece Schwarzenegger di dov'è? Eh... Stati Uniti! Stati Uniti! Stati Uniti! E' il presidente della California, vero? Sì! Bravissima Maria, sei anche informata che Schwarzenegger è il presidente della California! Brava Maria! Adesso questi pezzi di pane li mangi tutti! Che fai? Fai le bruschette! Si congelano! Facendo anche tutti a pezzi, fettine, si congelano! Bella Maria! Le prendiamo e le mangiamo! Ma guarda quanto è bello questo pane! Lo facciamo le bruschette stasera! Bello, bellissimo! Ho preparato anche le melenzane! Per fare le melenzane a funghetto! A funghetto, sì sì! Allora facciamo le bruschette con le melenzane, bruschette con le melenzane, bruschette con il pomodoro! Sì! Eh, di tutti i tipi, vero Maria? Tutti i tipi, lei è ok, tutti i tipi! Ok, ok! Va bene Maria! Allora, saluta i nostri followers! Tutti i nostri followers! A tutti! E puoi fare qualche saluto speciale ai nostri followers? Buone vacanze! Allora, fare un saluto a Salvatore Salumiere! Bravo! Chi è? Salvatore Esposito? Esposito, sì! Va bene! Allora, ciao Maria! Ciao Giuseppe! Ciao! Buon lavoro! E anche a te, manda cosa belle! Ciao, buona estate! Buona estate!